si sto comune sta diventando come saveria di francesco seno uguale direi cazzate quello tu stai minchiato poi non è neanche in mincota ma che cazzo dici è uguale e frec dice minchiate tuo comune sta allucinato ragazzi benvenuti sul canale oggi ci troviamo con vincenzo ciao a tutti buongiorno troisi o non troisi era sotto marca anche lui non è youtuber io anche sono youtuber ora io mi direttiamo lui è molto bravo con i droni con i droni seguite il suo canale molto bellino la squale fa manovra a retromarcia si è fatto tutto il pezzo perché non sa guidare quindi ragazzi oggi nuova avventura una bella giornata della giornata mangiamo i nostri taralli sempre con il buco mi raccomando sono importanti con il buco non lunghi perché noi lasciamo sempre l'amico pasquale oggi a te domani a te mannaggia tanta che volgare che è questo ragazzo è vero è ruspanto è stato soddisfatto che ha rotto le palle i gabbiani 100 gabbiani rotti i coglioni era per far vedere proprio a vincenzo quanto rompe i coglioni bella vincenzo tutti contenti siamo anche loro muta messa siamo pronti all'attacco la muta che utilizzo è di jetman composiz e questo tipo di mimetismo è semplicemente un test per capire se mi potrà dare una mano ad avvicinare i bei pesciotti in mano ho il 115 l'uragano 115 armato con asta da 8 mm davanti a me ho un branco di saraghi intorno a mezzo chilo anche più dei dentici più lontani intorno a chile e mezzo che sinceramente sono anche abbastanza predisposti a venire a tiro mi potrei anche accontentare a sparare un bel dentice ma sono lieto aspettare la preda un po' più grossa ne sono sicuro che dovrebbe arrivare da un momento all'altro infatti come previsto ecco sbucare sulla mia destra la cernia bianca cerco di capire un po' se posso spararla da questa distanza ovviamente valuto la dimensione del pesce se posso ovviamente passarla infatti mi avvicino giusto un po' e sferro il tiro ecco sono questi i tiri che mi fanno capire l'importanza di avere un fucile molto potente ma soprattutto preciso ciao ragazzi tanti grossi qualche dentice si è visto sul file e mezzo due però ho aspettato un pochettino perché ci stava davanti a me la cernia bianca che ecco qua sulla branca un pesce a 6 metri è vero che c'è un'asta da 8 sull'oregano però io ve lo dico ragazzi basta anche il canova 95 faccio abbastanza danni con quello però avere quella gittata in più a volte ti salva la giornata e oggi l'oregano si è dimostrato veramente eccezionale su sto tiro in lunga distanza dai bene bene ok oddio posso? in passato ho fatto una modifica sul canova praticamente ho inserito lo stopper prima delle carrucole ho forato il canova sappiamo che il canova all'interno è un fucile pieno non è un vuoto praticamente non è cavo all'interno quindi ho potuto fare questa modifica inserendo praticamente questo cordino e quindi interrompendo la corsa prima delle carrucole contrariamente il canova originale è questo qui con lo stopper che viene messo dopo le carrucole in questo modo che succede? che abbiamo ovviamente più volata dell'asta quindi questi 5 centimetri li recuperiamo ovviamente in gittata in propulsione in spinta in spinta propulsiva dopo circa 10-12 immersioni sul filo dei 30-36 metri si rientra a casa anche in realtà soddisfatti del pesce pescato Vincenzo ovviamente io sono il portafortuna il portafortuna ricordiamoci l'importante lo sta dicendo eh sei il portafortuna se non prendiamo niente con chi me la prendo io? con Pasquale con Pasquale come sempre portafortuna quando vuole lui dai mi cambio con la bocca si ponfia il gommone no? con la pompa tutto facile elettrico anche in questa pescata ci portiamo l'amico Vincenzo Troisio che vi invito a visitare il suo canale intanto Pasquale mi sistema il tubo per appunto il nostro piombo mobile di 4 kg qui mi sto avventurando sul fondale di circa 44-45 metri l'acqua così limpida cristallina ovviamente non è invernale infatti siamo a metà settembre in questo periodo c'è da aspettarsi le belle ricciole in mano ho l'uragano 115 armato sempre con un'asta da 8 anche se pescando nel blu in realtà avrei voluto testarlo anche con l'asta da 8.5 e secondo me questo tipo di fucile lo vedo molto più predisposto per questo tipo di allestimento un po' più importante eccole finalmente sono loro sono solo tre ricciole diciamo smarrite punto un po' l'imbracciata e sparo è un tiro leggermente basso sono stato un po' troppo istintivo il braccio piegato verso sinistra e quindi non allenato perfettamente al pesce mi ha permesso di fare questo tiro leggermente basso e quindi quel poco di contraccolpo comunque è stato percepito in lunga distanza e quindi abbassando anche il tiro lato critica è perché ovviamente sono tanto perfezionista quindi amo anche i tiri perfetti oltre la panea ovviamente e quindi abbiamo anche i tiri perfetti e quindi abbiamo anche i tiri perfetti dai i due barcaioli fanno la differenza soprattutto Vincenzo Troisio che mi ha portato fortuna per la seconda volta amo tantissimo portare in barca delle persone che non hanno a che fare nulla con la pesca in apnea Vincenzo mi raccontava che era la prima volta che vedeva un apneista all'azione e soprattutto nel catturare dei pesci di grosse dimensioni il pesce non tira quindi vuol dire che ha causato il tiro il colpo è davvero un bel pesce e il suo peso è intorno ai 14 kg ancora non riesco ad accettare che l'uragano spara 7 metri semplicemente per quelle metri in più rispetto metri in più anche qualcosa in più rispetto all'Ural Canova 95 fa tanto mentre scendevo le ho viste queste tre ricciole le ho viste un po' nelle arcosette in realtà quindi ho subito usato e il tiro è stato molto basso condividere alcune ore di mare con degli amici davvero non apprezzo questo pesce è stato diviso in tre e si ammazzava da ridere perché ancora non ci poteva credere di aver visto salire in barca un pesce così grosso e ha iniziato a spiegarmi la sua ricetta preferita per non dimenticare vi invito a rivedere questo video realizzato un po' di anni fa ben curato nei minimi dettagli ci può far capire quanto sia importante lavorare con la respirazione unendo con alcune posizioni e i movimenti delle braccia ci indurrà ad aumentare notevolmente la nostra capacità polmonare ma non solo come sempre vi invito a iscrivervi sul canale ed accendere la campanella per restare sempre aggiornati buon mare a tutti e alla prossima puntata ciao 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 ciao